Eccoci al nuovo capitolo di geografia, il capitolo 2, che parla del paesaggio e i fattori che lo modificano. Prima di cominciare il capitolo dobbiamo sgombrare un equivoco di fondo, cioè l'equivoco generato dalla parola ambiente e dalla parola paesaggio, che noi spesso utilizziamo indifferentemente in italiano. In realtà queste due parole sono diverse. L'ambiente è ciò che circonda gli esseri umani, ogni altra forma di vita e ogni altro essere inanimato. Il paesaggio invece è la forma che assume un determinato ambiente. In poche parole, quello che vediamo guardando dalla finestra. Se ci affacciamo alla finestra vedremo un paesaggio urbano, se abitiamo in un posto di montagna vedremo un paesaggio montano, in un posto di mare, un paesaggio marino. Quindi il paesaggio comprende tutti gli elementi che formano lo spazio geografico che ci circonda. Ci sono diversi tipi di ambienti, di paesaggi. Il paesaggio naturale, cioè quello che conserva le forme originarie del territorio, come potete vedere nell'immagine, per esempio questo bellissimo lago montano. Non vediamo forma di manomissione da parte dell'uomo. E poi i paesaggi antropizzati. I paesaggi antropizzati sono stati modificati dall'intervento dell'uomo. Come vedete anche qui abbiamo un elemento naturale, il mare, ma abbiamo un porto, uno stabilimento balneare, un albergo, delle barche. E quindi qui l'uomo ha modificato, attraverso il suo intervento, il paesaggio. Questo è un paesaggio antropizzato. Andiamo adesso, ovviamente antropizzato viene dal greco antropos, che vuol dire uomo, ma è una parola che abbiamo già incontrato. Vediamo adesso quali sono i fattori naturali che possono modificare il paesaggio, che possono mutare il paesaggio. Perché il paesaggio non è una cosa immobile, ma è una cosa che si trasforma. Viene trasformato attraverso dei fattori naturali, che sono i fattori o agenti endogeni. Endogeni viene dal greco endos, che vuol dire all'interno, e genos nato, quindi che nasce dall'interno. Questi fattori sono quelli che avvengono all'interno della Terra, terremoti, attività vulcaniche e movimenti interni, che poi spiegheremo meglio. Poi abbiamo un altro tipo di fattori, sempre naturali. Gli agenti o fattori esogeni, e cioè dal greco exos, che vuol dire fuori, genos, nato. Nato, che ha origine da fuori, cioè i ghiacciai, quindi la temperatura, le maree e il moto ondoso, che modificano le coste, lo scorrere delle acque e dei fiumi, che modificano l'ambiente attraverso le sondazioni e le inondazioni, creano delle modificazioni, dei mutamenti dell'ambiente, e gli agenti atmosferici, temperatura, neve, pioggia, grandine e così via. Ma non ci sono purtroppo solo fattori naturali, ci sono anche dei fattori antropici, cioè fattori determinati dall'uomo. L'uomo modifica il paesaggio per avere dei vantaggi abitativi, costruisce le sue residenze nelle città, costruisce le vie di comunicazione per collegare le città, quindi ferrovie e strade. In questo modo modifica il paesaggio. Ma ci sono anche dei vantaggi produttivi. L'uomo per coltivare bonifica le paludi, scava delle gallerie nelle montagne per consentire il collegamento e il trasporto delle merci, sfrutta le foreste, abbatte le foreste per scaldarsi e per costruire, e costruisce dighe per deviare il corso dell'acqua e produrre energia etroelettrica. Tutto questo purtroppo ha un impatto devastante a volte sul paesaggio. Cominciamo adesso a vedere, partiamo dai fattori endogeni, partiamo dai movimenti interni della Terra. I movimenti interni, ossia la formazione dei rilievi, avvengono negli strati più superficiali della Terra, nella litosfera, che è formata dalla crosta terrestre e dal mantello superiore. La crosta terrestre arriva a una profondità, a uno spessore di circa 70 km, sotto le terre emerse e sotto gli oceani di circa 5 km. Come potete vedere da questa sezione della Terra, sono i due strati superiori del nostro pianeta. Il mantello superiore invece ha uno stato semisolido, uno stato fluido, di materiale rovente. Che succede? Che la costa terrestre non è un gruppo monolitico tutto attaccato, ma è diviso in diversi sezioni di territorio, come se fossero delle grandi zattere, infatti, le placche tettoniche, così si chiamano queste porzioni di territorio, si muovono sullo strato semifluido del mantello superiore, causando i movimenti tettonici. Questi movimenti non avvengono in poco tempo, avvengono in ere geografiche, dello spazio di milioni di anni, quindi sono dei movimenti piccolissimi e impercettibili, di cui noi non ci accorgiamo. Attraverso questi movimenti si ha origine l'orogenesi. Orogenesi viene dal greco oros, montagna, genesis, nascita, quindi nascita delle montagne. Questo fenomeno avviene o per scontro, due placche tettoniche si scontrano, c'è un accartocciamento, chiamato in gergo geografico corrugamento, che crea i rilievi. Oppure una placca scivola sotto l'altra per scivolamento e solleva quella a cui va a finire sotto. Così si creano i rilievi, così si modifica il paesaggio. Un altro fattore endogeno riguarda il vulcanesimo, ossia le eruzioni vulcaniche. Come avviene un'eruzione vulcanica? Dal mantello plastico, al di sotto del mantello solido, sale, risale il magma, un materiale rovente. Questo magma, risalendo, si accumula nella camera magmatica, che è una caverna sotterranea. Quando questa caverna si riempie eccessivamente, a causa della pressione interna, cerca di avere uno sfogo in superficie. Ed è così che attraverso il camino, un cunicolo all'interno del cono vulcanico, fuoriesce all'esterno, dal cratere. Dal cratere vengono emesse vapore, vengono emessi vapori, polveri, gas, lapilli, che sono delle pietre incandescenti, e la lava. La lava si solidifica, stratificandosi, stratificandosi, e crea i rilievi vulcanici. Come si formano i vulcani? Noi abbiamo parlato dello scontro incontro tra le placche tettoniche, ma quando le placche tettoniche si allontanano, provocano delle fessurazioni, chiamate faglie, da queste faglie fuoriesce il materiale incandescente, la lava. Come potete vedere, infatti, la linea dei vulcani segue la divisione delle placche, quindi ci sono delle linee di vulcani messi proprio in fila che seguono il contorno delle placche, e questo è detto anello di fuoco. Vedete che alcuni paesi come il Giappone, come gli Stati Uniti occidentali, come il Sud America, come il Sud Est Asiatico, ma anche la nostra Italia, la Grecia e la Turchia, si trovano proprio in corrispondenza di queste faglie. I vulcani sono anche una risorsa, però, perché rinnovano la crosta terrestre, bilanciano la composizione dei gas atmosferici, nell'atmosfera non c'è solo ossigeno, ma una combinazione di gas, grazie alle eruzioni vulcani, che questa combinazione di gas è sempre equilibrata. Potrebbero diventare una risorsa energetica, sfruttando l'energia geotermica. In Islanda, infatti, dove ci sono i geyser, che sono una manifestazione vulcanica secondaria, dei forti getti di vapore dal centro della Terra, vengono piazzate delle turbine che creano energia elettrica, senza provocare inquinamento e senza provocare scarti. Un'energia rinnovabile e pulita. Inoltre, la lava, quando si solidifica, è un materiale ricco di sali minerali e fertilizza la Terra. Ma i vulcani sono anche un pericolo. Infatti, le polveri e gas possono determinare cambiamenti climatici, come nell'era glaciale. L'eruzione contemporanea di tanti vulcani ha oscurato il sole e creato l'era glaciale. Le eruzioni possono impedire il traffico aereo anche per molto tempo. Le particelle emesse dai vulcani stazionano ad alta quota e impediscono agli aerei di circolare. Le eruzioni vulcaniche sono collegate a un altro fattore endogeno, e cioè i terremoti e i maremoti, che provocano molti sconvolgimenti. Ovviamente, mentre i movimenti tettonici sono impercettibili ai sensi umani, non ci accorgiamo del fatto che avvengono, invece, le eruzioni vulcaniche e i terremoti sono percettibili e creano delle cambiamenti repentini e spesso disastrosi. Andiamo a vedere com'è la situazione dei vulcani in Italia. Vedete che l'Italia è percorsa proprio da una faglia, chiamata Faglia Gloria, che divide la placca africana dalla placca europea. Vedete che scorre lungo tutta l'Italia in corrispondenza degli appennini e poi devia verso la Grecia e verso la Turchia. Non a caso questi tre paesi sono quelli a più alto rischio sismico di Europa. Come potete vedere in queste altre due cartine, la presenza dei vulcani si divide in vulcani altivi, i triangolini rossi, vulcani spenti in epoca recente, i triangolini azzurri, e i vulcani spenti definitivamente o estinti, quelli neri. Ma la cosa curiosa è che la linea sismologica d'Italia, cioè il più alto rischio di terremoti, sia proprio lungo la linea dei vulcani. Quindi i vulcani e i terremoti sono strettamente collegati. Andiamo infatti a vedere cos'è un terremoto. La nostra crosta terrestre è un materiale rigido, non eccessivamente elastico, quindi sottoposto ad eccessive pressioni arriva ad un punto di rottura nel sottosuolo. Questo punto di rottura si chiama ipocentro. Dall'ipocentro si propagano delle onde, chiamate onde sismiche, che si diffondono anche a molta distanza. Ad un ipocentro sotterraneo corrisponde un epicentro superficiale. Avrete sentito questa parola molte volte nei telegiornali. Quando si vuole individuare l'origine di un terremoto si parla di epicentro. Ovviamente i posti più vicini all'epicentro subiranno più danni, quelli più lontani gradualmente sempre meno danni. Per farvi capire con un esempio molto semplice cos'è un terremoto basta paragonare la crosta terrestre al vostro righello. Se voi prendete un righello di una certa lunghezza e esercitate una pressione fino a un certo punto si deformerà. Fin quando non arriverà al punto di rottura. Una volta rotto il righello le due parti del righello che vi rimangono in mano cominceranno a vibrare. Ecco, un terremoto avviene proprio nello stesso identico modo. Si esercita una pressione su un materiale semirigido quando si arriva a un punto di rottura i due punti che si saranno distaccati cominceranno a vibrare. Infatti, avete spesso sentito parlare di scosse di assessamento. Sono quelle vibrazioni che continuano a propagarsi fin quando la situazione sulla crosta terrestre non torna allo stato precedente. dopo purtroppo aver causato molti disastri. Con questa slide si conclude la prima parte del capitolo. Nella seconda parte andremo a vedere i fattori esogeni e l'intervento dell'uomo sul paesaggio. Arrivederci.